Il padre di una sua amica disapprovava la loro frequentazione e per questo gli ha sparato. Lino La Tagliata, bracciante agricolo, 27enne di Palagiano nel Tarantino, aveva precedenti penali. È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. L'uomo aggredito, che ha 42 anni, è stato ferito al collo da un colpo di pistola ed è ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Il giovane arrestato è accusato di tentato omicidio, ricettazione e porto abusivo di arma clandestina. Dopo un'animata discussione, il giovane ha esploso un colpo di pistola che deteneva illegalmente contro l'uomo. Lo sparo ha attirato l'attenzione dei vicini, facendo scappare il ragazzo che si è allontanato a bordo di un'auto. La vittima, trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è riuscita comunque a riferire ai militari elementi validi per la ricostruzione dei fatti. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un bossolo calibro 380 e logiva. Il 27enne, sottoposto all'esame dello Stub, sarà interrogato dal giudice delle indagini preliminari.